Come molto probabilmente alcuni di voi sanno durante l'access di Wrestlemania di Undertaker ha risposto alle domande dei fan in un panel con partecipazione molto ristretta e allora andiamo a sentire cosa ha replicato a chi gli ha chiesto di Bray Wyatt vi faccio una traduzione e un adattamento in italiano in simultanea Bray Wyatt spero che risolva presto le questioni che ha in sospeso perché è un talento straordinario e credo che abbia ancora molto da offrire a quest'industria quindi mi auguro di poterlo rivedere quanto prima all'interno del ring Beh parole importanti quelle dell'Undertaker alle quali credo tutti noi ci associamo perché ha ragione Wyatt è unico non è imitabile ci sono tanti problemi connessi ai personaggi che può offrire però solo lui li può mettere sul tavolo solo lui li può mettere nel piatto Detto questo me lo chiedete ancora molto molto spesso Wyatt non è ad ora al momento in orbita ritorno né in WWE né in altre federazioni perché sta ultimando come attore il suo ruolo la sua fase recitativa in un film tra l'altro prodotto da alcuni dei suoi amici una volta terminata questa avventura una volta concluso questo progetto magari inizierà a guardarsi attorno ma essendo un tizio parecchio creativo Beh non è detto non è detto che si rimetta gli stivali quindi dobbiamo aver pazienza e semplicemente attendere l'esito degli eventi e il passare dei mesi Voi lo rivorreste vedere in WWE? Beh credo che ci sia un plebiscito a tal riguardo ma non voglio mettervi le parole in bocca quindi ditemi tutto Ditemi se sentite la nostalgia del maligno oppure se siete contenti che non ci sia più nella narrativa un personaggio così ingombrante e ditemelo argomentando le vostre posizioni qui sotto nei commenti